Cari fratelli e sorelle recitiamo insieme anche oggi l'ultimo giorno della novena della medaglia miracolosa in attesa della grande festa di domani 27 novembre. La devozione alla madonna della medaglia miracolosa è una tradizione della chiesa che porta benefici nel cuore, nella famiglia, in tutta la società. Benvenuti e bentornati nel nostro canale youtube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. La preghiera della novena alla madonna della medaglia miracolosa oggi è il nono e ultimo giorno. Prepariamoci con alcuni secondi di raccoglimento prima di iniziare e chiediamo una grazia a Maria. Recitiamo la novena alla madonna della medaglia miracolosa in comunione con i fratelli e le sorelle del santuario della Vergine del Silenzio ad Avezzano in Abruzzo ed anche con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Vergine Immacolata della medaglia miracolosa, che mossa a pietà delle nostre miserie scendesti dal cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre pene e quanto ti adoperi per stornare da noi i castighi di Dio e impetrarci le sue grazie, muoviti a pietà della presente nostra necessità. Consola la nostra afflizione e concedici le grazie che ti domandiamo. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve, a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata della medaglia miracolosa. Che quale rimedio a tanti mali spirituali che ci affliggono? Ci hai portato la tua medaglia affinché fosse difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri? Ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Or su, dunque, avvocata nostra, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine immacolata della medaglia miracolosa, tu hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua medaglia che ti avessero invocata con la giaculatoria da te insegnata. Ebbene, o Madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a te e ti domandiamo per la tua immacolata concezione la grazia di cui abbiamo bisogno. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve! A te ricorriamo, esuri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. Recitiamo tre gloria insieme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Vergine Santa della Medaglia Miracolosa, prega per noi. Vergine Santa della Medaglia Miracolosa, prega per noi. Amen. 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 Alleluia. Concludiamo con questa invocazione. Grazie, cari fratelli e sorelle, per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e l'intercessione del cielo per le nostre necessità non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza e che necessitano di guarigione fisica e spirituale. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Arrivederci a tutti al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica e la Madonna della medaglia miracolosa ci conceda la grazia che le chiediamo. A domani!